Questa posizione è stata raggiunta dall'ex campione del mondo Gary Kasparov e il suo avversario con il bianco, il grande maestro Tukmanov, giocò alfiere per cavallo. Quindi Nero risponde con un alfiere per cavallo lì al centro, ritrovandosi con una coppia degli alfieri pronta a creare un po' di tattica contro la rocca avversario. Qui il bianco giocò donne 3, convinto di ottenere un buon vantaggio perché dietro quest'alfiere che non è difeso ci sarà un alfiere attaccato ben due volte, una volta direttamente dalla torre e indirettamente dalla regina del bianco. Eppure qui il Nero ha una mossa risolutiva che obbliga l'avversario all'abbandono e la mossa è questa. Donna cattura torre e chiaramente mette in evidenza la debolezza della prima traversa con tentativo poi per il Nero di creare il matto del corridoio.